IDB è l'acronimo di associazione italiana per la direzione del personale, è un network di volontari che si occupano di tutte le tematiche relative all'area del personale. In Liguria siamo più di 200, nata negli anni 60, in Italia siamo più di 3.000 associati, siamo in tutte le regioni italiane. L'essere associati permette di avere tutta una serie di vantaggi che sono quelli relativi a poter condividere un network tra le persone che possono avere più o meno esperienza ma che si compensano con l'aver voglia di condividere il proprio know-how. Io opero nell'ambito del personale dal 98 avendo aperto la prima agenzia di lavoro interinale che è là. Dietro vediamo la lanterna, a fianco c'è il nostro porto, come in tempo che è la società per cui lavoro, ci occupiamo principalmente delle attività, dei cluster, money time, portuale, logistico ma essendo un'agenzia per lavoro ovviamente ci occupiamo di tutte le attività relative alla ricerca e selezione del personale e alla successiva o precedente formazione. La cosa importante è che chi opera nell'area del personale farebbe bene ad associarsi ad IP per un paio di motivi. Uno l'abbiamo detto fino alla nausea che è il network che anche se uno lavora è bene sempre avercelo. Due la formazione, tre la possibilità di scambiarsi conoscenze, quindi chi è iscritto ad IP ha questa possibilità aggiuntiva rispetto a altre modalità, ce l'ha in modalità personale, quindi l'appello per chi è interessato a crescere professionalmente e personalmente e associatevi ad ADP di Guria.